Sefty Ho boxato perchè non voglio usurare troppo le gomme E so già che l'usura sarà un punto molto fondamentale Dietro sono molto indietro quindi ho cercato di boxare Non chiedetemi numeri per il super enalotto Per favore Mi hai cacciato il pc mentre stavo in live In Australia piove Meglio di così non poteva andare no Va nel box per cercare di fare un undercut Che di undercut non c'era un cazzo E sono terzo non secondo Terzo dietro il mio compagno di squadra